Oggi dobbiamo ringraziare il sindaco di Lingua Glossa perché abbiamo rinnovato la convenzione per l'uso del sito di Donna Vita che negli anni è stato e continuerà a essere una location destinata al corpo forestale per quanto riguarda il soccorso montano. Abbiamo deciso di rinnovare una convenzione molto importante per il comune di Lingua Glossa e sicuramente anche per il corpo forestale che è la caserma Donna Vita, è un presidio sempre di legalità, di sicurezza e continuare questa collaborazione tra amministrazioni pubbliche credo che sia importante anche per il cittadino, per il turista e per la tutela del territorio. Lo abbiamo fatto con lo spirito di sempre, una leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche utile a migliorare sicuramente i servizi che sono presenti a Etna Nord e anche alla tutela di questo patrimonio molto importante. è un sito che è ad un'altezza ragguardevole perché siamo a 1200-1300 metri e siamo contenti perché il personale da questa postazione può benissimo governare tutte le attività della zona. Credo che il soccorso montano debba essere rinvigorito ancora di più con la presenza di altro personale e stiamo cercando di attrezzarlo nel migliore dei modi possibili perché oltre che tutelare l'ambiente e il territorio è chiaro che poi pensiamo anche a tutelare e salvaguardare le persone. L'Etna, la Sicilia hanno molte cose particolari. È un territorio di montagna però è una montagna su un vulcano attivo e quindi è chiaro che quello che si fa qua sopra viene classificato sempre con una particolarità che è quella di lavorare su un territorio che ti mette davanti rischi molto particolari ed è chiaro che l'addestramento fatto qui è un addestramento speciale e particolare. Il corpo forestale, devo dire, in questi anni ha sempre migliorato e professionalizzato le persone adesso c'è la possibilità di incrementare l'organico e farli addestrare in questo territorio tutela ancora di più la salute dei cittadini e la sicurezza dei cittadini.